Non è vero, sta scatenando una grande eccitazione questo pomeriggio a Martetta, ancora la volta mira la gloria, è uno dei più importanti toneri, un muletato a sinistra, le corde ora si sta preparando per alcune manolettine, le fa una fermissimo, un'altra, e un'altra che parte del peggio signore e signori, è straordinario quello che stiamo vedendo oggi sta toleando come un angelo, il pubblico in piedi l'applaude, oggi manolette ha dimostrato di essere il più grande, il numero uno di Spagna Grazie